Allora, vengo a sapere da poco che questi ragazzi che avevano pochi giorni fa aggredito i quattro ragazzi del Cinema America hanno pensato bene di schiacciare la faccia a una ragazza addosso al muro, addosso a una macchina, non ho capito, minacciandola, dicendo di al tuo ragazzo che deve stare calmo. Allora, anzitutto, io lo so che qualcuno di voi mi guarderà, io lo so. Volevo dirvi che voi per me non siete né fascisti, siete soltanto dei parassiti, strattasi di parassiti della società, delle persone che dovrebbero essere resettate e rieducate, non politicamente, non c'entra niente, la politica non c'entra niente. Avreste fatto cagare in qualunque fazione politica. Io veramente, guardate, adesso lo sto facendo con una storia di Instagram, lo farò adesso in maniera un po' più concreta, vorrei proprio che queste persone non si sentissero più libere di poter fare una cosa del genere, adesso capiremo come fare. Però, vabbè. Federica, noi non ci conosciamo, però ti mando un bacio. Ciao. Ciao.